Incidente nella strada è il martedì 5 marzo poco prima delle 18.30 in via Salvatore Mura, Front. Una Fiat 1 condotta da una donna classe 1949 residente a Castellamonte è uscita di strada e si è schiantata contro gli alberi. L'auto, in seguito all'impatto, si è incendiata. La donna ha fatto in tempo di uscire dalla vettura a chiamare i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Torino Centrale e Rivarolo Canavese, la Croce Verde, i carabinieri di Corio e Rivara e la protezione civile di fronte. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la vettura, mentre la donna è stata controllata dal personale sanitario della Croce Verde. La Croce Verde La Croce Verde